Dottore, la pandemia ci ha imposto un'organizzazione del lavoro completamente diversa. Abbiamo imparato tante cose perché è passato del tempo. Non di meno siamo ancora a, in qualche modo, leccarci le ferite. Per quanto riguarda la fecondazione medicalmente assistita, lei ha dovuto stravolgere tutti quelli che erano i progetti di alcune delle sue pazienti. Ci può raccontare qualche storia? Allora, tenga presente che già durante il periodo del lockdown noi siamo stati quattro mesi senza poter lavorare, assolutamente. Quindi con tutti i centri di fecondazione assistita completamente chiusi, non potendo svolgere l'attività, non potendo svolgere un'attività di studio. Quindi abbiamo avuto uno stop completo di tutta l'attività lavorativa e di tutte le procedure di fecondazione assistita. Ora, mi immagino, qualche paziente abbia dovuto avvisarla che era affetta da Covid, si era beccata il Covid. Qualcun'altra magari ha detto, ho fatto il vaccino, possiamo continuare con le pratiche che c'erano in posto? Guardi, anche in questo non ci sono delle regole precise, nel senso che in teoria dopo aver fatto il vaccino bisognerebbe aspettare tre mesi, però poi c'è la seconda dose e poi c'è la terza dose. Quindi in teoria non sappiamo se bisogna aspettare tre mesi dopo ogni dose, quindi significherebbe perdere all'incirca un anno, un anno è qualcosa, per poter affrontare, anche per poter cominciare a parlare di procedure di fecondazione assistita. Così come più di qualche paziente che aveva cominciato la terapia ha dovuto sospendere perché si è ritrovata positiva al Covid. Ecco, io mi chiedo, da un punto di vista psicologico, uno stop inatteso e così drammatico, come incide sulla salute delle pazienti? Incide principalmente sul morale della paziente, perché sono comunque pazienti stressate psicologicamente, che cominciano con grossa fatica a dover utilizzare una serie di farmaci e dover sospendere da un giorno all'altro perché si sono ritrovate positive o perché all'epoca c'era stato il blocco di tutte le attività, certamente non è piacevole, né per loro né anche per noi medici fondamentalmente. E in questa esperienza recente della sua vita professionale ha dovuto registrare qualche abbandono definitivo? Diciamo che ci sono molte pazienti che hanno ancora paura di farsi il vaccino, quindi al momento hanno abbandonato l'idea di fare una procedura di fecondazione perché in effetti non hanno voglia di vaccinarsi. Non avendo voglia di vaccinarsi, non hanno Green Pass, non hanno nulla. Quindi diventa un po' complicato poter gestire questo tipo di pazienti. Dottore, la fecondazione assistita nel tempo ha fatto passi da gigante, nel senso che adesso le possibilità offerte a quelle coppie che sognano di avere un figlio e non ci riescono per via naturale sono sicuramente superiori al passato. Quali sono le chance che ha mediamente una coppia che gode di buona salute e non di problemi irrisolvibili? Allora, lei deve partire da un presupposto che fisiologicamente una coppia di ragazzi giovani, ventenni, che non hanno nessun tipo di problema ad avere bambini, hanno all'incirca il 35% di probabilità di gravidanza ogni mese. Logicamente questa percentuale non è sommabile perché altrimenti nel giro di tre mesi avrebbero una gravidanza. Quindi questo le fa capire quanto è fondamentalmente bassa la probabilità di gravidanza. Il problema è anche un altro, che le tecniche sono molto avanzate, sono andate avanti tantissimo da un punto di vista proprio tecnologico, ma la cosa più importante rimane sempre quella di crearsi i presupposti migliori nella paziente. Che cosa significa? Che molto spesso vengono prese sotto gamba tutta una serie di valutazioni che devono essere fatte per fare in modo che la paziente abbia la maggiore chance possibile di avere la gravidanza. Dottore, durante il lockdown c'è stata una convivenza forzata delle coppie. C'è il mito che vuole che ci siano stati più bambini dopo il lockdown. Lei lo ha registrato? Eh beh, diciamo che logicamente probabilmente si saranno allenati di più, quindi è facile, è probabile che ci sia stato una maggiore, un incremento di gravidanza. C'è anche da dire un'altra cosa, che però si è notato anche un incremento di problemi proprio ginecologici forse legati o all'inoculazione del vaccino o al covid vero e proprio, al virus vero e proprio, soprattutto in quello che riguarda tutte le alterazioni del ciclo mestruale. Quindi probabilmente è vero che ci sarà stato un incremento nel tasso di gravidanza, ma c'è stato sicuramente un incremento in tutta una serie di alterazioni fisiologiche nella paziente. In chiusura vorrei che lei ci desse un consiglio che possiamo trasmettere alle telespettatrici. Qual è l'età più giusta per pensare di avere un figlio? Entro i trent'anni. Entro i trent'anni? Entro i trent'anni, diciamo, abbiamo l'acme della fertilità. Dopodiché, incomincia a scendere lentamente, ma incomincia a scendere.